Giudicato positivo l'atto di convocare l'icomitato per l'ordine pubblico e la sicurezza a Corigliano Russano, ma i risultati non si ritengono esaustivi. Tanti i punti rimasti in evasi a partire dalla consapevolezza di pervenire ad una maggiore presenza degli uomini dello Stato per tenere sotto controllo il territorio. Al di là della elevazione a distretto del commissariato di pubblica sicurezza e di tre unità aggiuntive al corpo di polizia, interventi tra l'altro già programmati, nulla si farà di concreto. E questo perché i dati non sono ritenuti allarmanti. Ad eccepire in tal senso qualche capogruppo consigliare che ha preso parte all'incontro. Quindi io credo che per avere più uomini debbano loro intervenire e chiedergli quest'unità. Per il consigliere Vulcano potrebbe essere utile deterrente, non esaustivo, l'invio dell'esercito nella Siberia. La presenza dell'esercito secondo me potrebbe essere un deterrente per i criminali, potrebbe essere sinonimo di sicurezza per la gente, per chi anche in questa città viene a fare le vacanze, le ferie. Ma c'è chi parla di danno all'immagine e al turismo con l'arrivo dell'esercito. Il turista che viene da fuori e trova la presenza dello Stato, che sia esercito, che siano carabinieri, che siano polizia, che sia finanza, non può che ritenersi soddisfatto, non può che sentirsi sicuro dalla presenza dello Stato sui territori.